Eccoci qui ragazzi in un nuovo video, in questo video andremo a vedere perché nel mese di settembre soprattutto bisogna fare particolare attenzione a quella che è la situazione sui mercati, specialmente S&P 500 e Nasdaq, ma anche in questo caso alla situazione di Bitcoin. Infatti andremo a vedere un paio di dati che ci mostrano come tendenzialmente settembre è un mese particolarmente bearish. Una volta quindi che discuteremo molto velocemente questi dati andrò a mostrare come al solito i prossimi livelli e i prossimi trade su Bitcoin. Quindi ragazzi se siete nuovi su questo canale e vi piacciono queste tipologie di contenuti non dimenticatevi di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale. Allora parto subito dicendo che non mi stupierei assolutamente di vedere una correzione principalmente sugli indici azionari nel mese di settembre. Andiamo quindi subito a vedere un paio di dati a riguardo. Innanzitutto come possiamo notare queste sono le statistiche delle performance di mese in mese negli ultimi 40 anni per l'S&P 500 e in questo caso invece per gli ultimi 70 anni del Nasdaq. Ecco in media i mesi peggiori per lo Standard & Poor's sono febbraio, agosto ma soprattutto il mese di settembre che si rivela essere il peggiore. Per quanto riguarda il Nasdaq invece principalmente anche in questo caso il mese peggiore è sempre quello di settembre e anche per Bitcoin vale lo stesso. E per via del fatto che storicamente dati alla mano nel mese di settembre si vedono spesso e volentieri delle correzioni, quindi per via del fatto che il mese di settembre si rivela in molti casi essere un mese bearish, è stato cognato il termine September Effect. Infatti negli ultimi 100 anni il mese di settembre, ripeto, si è rivelato un mese particolarmente bearish. Quali possono essere i motivi? Beh sicuramente c'è un effetto psicologico proprio perché statisticamente dati alla mano il mese di settembre si rivela un mese bearish, un motivo invece un po' meno psicologico e più concreto potrebbe derivare dal fatto che molti investitori istituzionali in molti casi decidono di vendere entro la fine di settembre, dato che si conclude il terzo trimestre di trading. E quindi in questo caso possono liquidare e intascarsi un po' di profitti andando verso la fine dell'anno. Aggiungiamoci anche un altro motivo è che molti mutual funds, molti grandi fondi decidono entro la fine di settembre di chiudere molte posizioni per detrazioni fiscali. Quindi in questo caso iniziano già a vendere alla fine del terzo trimestre per andare sostanzialmente a risparmiare tasse andando a dichiarare anche delle perdite. Appurato il fatto che statisticamente il mese di settembre è un mese bearish, ma tenendo anche in considerazione che risultati e dati passati non indicano necessariamente dei risultati futuri, che visto i miei precedenti video si ricorderà forse che un paio di settimane fa avevo fatto un video nel quale dicevo che mi aspettavo uno squeeze, quindi una risalita rapida dell'S&P 500. Ecco effettivamente uno squeeze, una risalita c'è stata, che cosa mi aspetto però in questo momento? In questo momento non mi stupirei a questo punto di vedere un'altra correzione dell'S&P 500, anche perché a livello tecnico che cosa possiamo notare? Notiamo che sembra che stiamo potenzialmente formando un testa spalle, che è chiaramente un pattern bearish. Considerando anche il fatto che c'è stato un rally e non da poco, nell'ultime settimane e negli ultimi mesi, potremmo sicuramente andare alla base di questo testa spalle, nel momento in cui dovessimo rompere la neckline, quel punto potremmo anche correggerci a livelli inferiori. Quindi in questo momento rimango cauto e mi aspetto principalmente in questo mese una correzione dello standard in post, anche perché ci stiamo accingendo al report CPI che sarà il 13 di settembre, quindi i dati sull'inflazione degli Stati Uniti e successivamente il 20 di settembre ci sarà il meeting FOMC. Meeting nel quale si decideranno le politiche monetarie del prossimo periodo, potenzialmente potrebbero essere alzati ancora i tassi di interesse. E giustamente uno potrebbe anche obiettare e dire ma come un ulteriore innalzamento di tassi di interesse se l'inflazione sta continuando a scendere? Bene, giusto l'altro giorno sono usciti fuori dei dati molto interessanti, dati che ci dicono che la disoccupazione degli Stati Uniti è aumentata in maniera inaspettata al 3,8%, quindi un incremento del quasi 6% rispetto al mese precedente. E ricordo, come ho già fatto altre volte, che nonostante per molti questo possa sembrare un qualcosa di controintuitivo, questo è proprio ciò che la Federal Reserve vuole, quindi alzare la disoccupazione negli Stati Uniti. Quindi potenzialmente vogliono arrivare a un 4,5-5% di disoccupazione, se non anche di più. E il motivo è semplice, cioè che principalmente il lavoro della Federal Reserve qual è? Quello della stabilità dei prezzi, quindi mantenere una stabilità dei prezzi, e inoltre fare in modo che ci siano più persone possibili con un posto di lavoro, con un impiego. Questo tenendo in considerazione che deve essere ad un livello che l'economia possa sostenere nel tempo, e questo è un punto molto importante. Infatti, il primo punto qual era? Quello della stabilità dei prezzi. E per mantenere una stabilità dei prezzi, l'inflazione non deve salire, cosa che è avvenuta nell'ultimo paio d'anni. Ora, sì è vero, sta scendendo, l'inflazione si trova ad un 3% ad oggi, dopo che è arrivata a un picco massimo del 9 oltre 1%. Però il fatto che la disoccupazione salga mantiene stabilità dei prezzi, fa in modo che l'inflazione non continui a crescere. Quindi questo è il motivo per cui vengono fatte manovre come l'innalzamento dei tassi e interesse, per andare a rompere qualcosa nell'economia, per fare in modo che salga la disoccupazione, e che quindi, di conseguenza, le famiglie e le imprese siano incentivate a spendere meno. In questo modo si tiene sotto controllo la stabilità dei prezzi, e non si rischia di andare ad avere dei picchi, dei nuovi rialzi dell'inflazione. Perché in questo momento è al 3%, l'obiettivo della fede è quello di portarla al 2%. Ma mosse sbagliate, alleggerire un po' la presa in questo momento, molto probabilmente potrebbero far passare, potrebbero portare l'inflazione da un attuale 3% a un 3,5%, 4% e oltre 3% e quindi ricominciare a salire. E quindi non c'è da stupirsi se i tassi verranno mantenuti alzati ancora per un po' di tempo, per altri mesi, addirittura verranno alzati nei prossimi, in questo caso il prossimo meeting form o in quello dopo ancora. Tornando al concetto di inizio video, quindi il fatto che il mese di settembre è dati alla mano statisticamente un mese abbastanza bearish, questo vale anche per Bitcoin. E quindi come intenzione di tradare la price action, come intenzione di posizionarmi nel mio prossimo trade. Allora innanzitutto, brevissimo recap, soprattutto sul mio gruppo Telegram in questi giorni avevo fatto sapere quelli che sarebbero stati i miei movimenti, avevo anche detto dopo il pump dei 28k, pump nel quale ero uscito totalmente dalla mia posizione long, ecco avevo detto di fare particolare attenzione, proprio perché non avevamo ancora rotto la struttura bearish, quindi mi aspettavo una ulteriore discesa. Effettivamente la discesa c'è stata, abbiamo chiuso totalmente le nostre posizioni short e siamo al punto di partenza di dove eravamo qualche giorno fa. Tra l'altro trade fatti con Bybee, di cui trovate il link sotto in descrizione. Soprattutto trovate i bonus sul primo deposito, in questo momento oltre 4.000 dollari sul primo deposito. Come ho intenzione però di comportarmi, quali sono i miei prossimi trade? Allora, la prima cosa che notiamo è che innanzitutto ci troviamo su un supporto, motivo per cui non ho intenzione di posizionarmi short su Bitcoin. Notiamo anche però che in questo momento la price action è stata abbastanza noiosa, a questi livelli c'è stato ben poco volume, soprattutto negli ultimi giorni, e proprio per via dello scarso volume, del fatto che in questo momento gli short seller sono parecchi, non mi stupirei di vedere nelle prossime ore, nei prossimi giorni, una risalita, uno squeeze fino al livello dei 26,8-27.000 dollari circa, per poi vedere un'ulteriore correzione. Però, la prima zona di liquidità nella quale potrei prendere in considerazione almeno un breve scalp, ma farò sapere il tutto sul mio gruppo Telegram, è la zona dei 24,8, quindi 24.800 dollari. Qui potremmo già vedere un primo bounce, potremmo vedere una prima risalita, un rimbalzo, ma in realtà il livello che mi interessa in particolar modo in questo momento, e quindi il livello nel quale potenzialmente potrei aprire una grossa posizione, è il livello di liquidità che va tra i 23.500 e i 24.000 dollari. Come mostrato anche sul mio gruppo Telegram, il press, il caro buon vecchio Donald, dice che la zona dei 23,5-24 è una zona con forte liquidità. Quindi questo, ripeto, è un livello che mi interessa particolarmente in questo momento, il livello nel quale apriamo una posizione long su Bitcoin, ed è anche un livello nel quale probabilmente incrementerò le mie altcoin. Quindi, signore, arrivate a questo punto, fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate, fatemi sapere come siete posizionati in questo momento, ditemi anche se siete riusciti a cavalcare la posizione short dei 28.000 fino all'attuale livello. Io, come al solito, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se vi è piaciuto non dimenticate di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale. Direi che anche per oggi è tutto, noi ci rivediamo molto molto presto nel prossimo video.